Adesso invece passo la parola a Donato Nolè che viene da Prato e lavora nella Polizia Penitenziaria. Sì, grazie, buongiorno a tutti e grazie soprattutto per l'opportunità e l'iniziativa. Gli interventi normativi attuati a seguito della sentenza Torreggiani e della contanna inflitta dalla Commissione Europea Diritti dell'Uomo al nostro Paese ha consentito di diminuire in modo considerevole il numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari. Ad oggi risultano presenti circa 54.000 detenuti, molti meno rispetto agli oltre 67.000 del 2011. Purtroppo se risultano evidenti i risultati conseguiti dal Governo nel contrasto del fenomeno del sovraffollamento detentivo non si può dire altrettanto in merito al miglioramento delle condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria. L'istituzione della vigilanza dinamica si è tradotta infatti in un'operazione di apertura delle celle. A differenza di quanto previsto l'amministrazione ha deciso di procedere di getto senza raccogliere i dati sui risultati raggiunti e quei dati purtroppo ci dicono che aumentano le aggressioni subite dal personale di Polizia Penitenziaria. Di fatto non si è fatto altro che ampliare leggermente lo spazio di chiusura senza però riempire questo spazio è il tempo soprattutto di contenuti, limitando l'osservazione del detenuto e la sicurezza del personale e degli stessi ristretti. La funzione pubblica CGL aveva chiesto garazzie tangibili sui temi della sicurezza delle strutture penitenziarie dei poliziotti reclamando stanziamenti economici per poter dotare le strutture di strumenti tecnici di ausilio per la sorveglianza. Da quanto ci risulta, e lo confermo nei reportaggi dentro a metà che abbiamo visto all'inizio dei lavori, prodotti dalla funzione pubblica CGL durante le visite in alcuni istituti del nostro Paese, nella maggior parte degli istituti gli strumenti tecnici non ci sono e dove ci sono non funzionano ed il poliziotto è abbandonato a se stesso. Avevamo sollecitato a gran voce atti concreti che tendessero a deresponsabilizzare i poliziotti penitenziari e i precisi corsi formativi per tutto il personale che avrebbe dovuto operare con il nuovo metodo operativo. Inoltre la carenza di organico di cui soffre il corpo rende difficile l'espletamento dei compiti attualmente affidati. La pianta organica della polizia penitenziaria è stata fissata con decreto ministeriale nel 2013 in 45.325 unità, ma attualmente il personale amministrato è di 37.963, una carenza di organica di 7.362 poliziotti. Tale carenza cresce di anno in anno perché si perdono circa 1.300 poliziotti per pensionamenti, personale collocato a riposo per inidoneità al servizio e molti transitano a ruolo civile perché non ce la fanno più. A questa grave carenza c'è da aggiungere la mancata assunzione di personale. A tale proposito il rischio in corso è ancora maggiore poiché gli unici due concorsi in cui erano previste assunzioni di personale esterno nell'amministrazione penitenziaria sono sospesi per irregolarità nello svolgimento della prova di esame. L'allarmante quadro della situazione attuale dimostra come non è più rinviabile un aneguato piano di assunzioni che colmi la carenza di organico evitando al personale i turni massacranti a cui oggi è sottoposto. Si tenga presente che si parla di servizi che si protagono fino a 16 ore al giorno. Al suddetto piano si dovrà affiancare un progetto di razionalizzazione delle risorse umane attualmente a disposizione e poi quella drammatica situazione è ulteriormente aggravata dalla cattiva gestione del personale attuata dall'amministrazione penitenziaria fino ad oggi. Migliaia di poliziotti che ad oggi risultano ancora in carica agli istituti penitenziari in realtà sono distaccati in sede extramenia ed impiegati in compiti amministrativi. Per favorire la fuga del personale dagli istituti penitenziari il DAP si è guardato bene dal definire le dotazioni organiche delle soddetti sedi malgrado le pressanti proteste della funzione pubblica CGL e solo della funzione pubblica CGL per poter continuare a distaccarvi personale anche oltre le reali esigenze. Il risultato di questa folle gestione è che la carenza di poliziotti negli istituti penitenziari aumenta mentre nelle sedi amministrativi è l'esubero ad aumentare. Il personale in servizio negli istituti penitenziari ed impiegati nelle traduzioni dei detenuti non può continuare a sostenere questi ritmi di lavoro in un contesto al limite della sopportazione umana dove non sono garantiti i livelli minimi di sicurezza sui luoghi di lavoro e anche questo è facilmente riscontrabile se volete guardare i reportaggi di dentro la metà che sono disponibili su Youtube. Gli istituti penitenziari sono obsolete e fatiscenti, per la loro ristrutturazione servirebbero almeno 40 milioni di euro l'anno ma ne vengono stanziati meno di 4. Molti dei mezzi con cui vengono effettuate le traduzioni dei detenuti hanno oltre 500 mila chilometri di percorrenza e chi li usa rischia la vita ogni giorno. I fondi destinati alla formazione sono stati ridotti del 70% negli ultimi 5 anni, di contro i procedimenti disciplinari nei confronti del personale sono in costante aumento. Tutto questo avviene ovviamente tende ad aumentare anche i casi di patologie conseguenti a stress da lavoro correlato e su questo ci si è consentito una riflessione. La polizia penitenziaria ha purtroppo il più alto tasso di suicidi tra gli appartenenti al corpo, il doppio più o meno rispetto alle altre forze di polizia ed il triplo rispetto alla restante popolazione. La risposta messa in atto, messa in campo dall'amministrazione penitenziaria per contrastare questo triste fenomeno è stato un numero verde presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma a cui dovrebbe rivolgersi tutto il personale distribuito su scala nazionale non è assolutamente adeguata, servirebbero punti di ascolto dislocati sul territorio e specialisti che possono effettuare analisi del rischio suicidio sui luoghi di lavoro. In un quadro del genere sarebbe importante dare un minimo di motivazione al personale garantendo la possibilità di progressioni di carriera. Per questo la revisione degli ordinamenti e dei ruoli della polizia penitenziaria di cui si sta discutendo in questo periodo deve avere una funzione principale, quella di garantire partendo dal basso adeguati progressioni in carriera per tutto il personale. Da questo punto di vista le voci che circolano su un riordino basato esclusivamente su un aumento dei parametri stipendiali destano forte preoccupazione. Se tali voci fossero confermate significherebbe che il governo ha intenzione di inserire nel suddetto riordini questioni squisitamente contrattuali e di farlo senza confrontarsi con le organizzazioni sindacali. A proposito di rappresentatività si segnala anche il problema di rappresentanza sindacale. Noi siamo l'unico comparto con le RSO quindi non le potremo vincere segretare, ci scuserà. E soprattutto dove la rappresentanza di calcolo si basa solo ed esclusivamente sul numero delle tessere. Poi peccato riscontrare che diversi poliziotti penitenziari, io dico troppi, spesso hanno in tasca anche 4 o 5 tessere sindacali senza però poter decidere da chi vuole essere rappresentato. Per questo chiediamo al governo ancora una volta di invertire la rotta, di specificare le entità delle risorse messe a disposizione del combarto sicurezza difesa e soccorso pubblico ed aprire il confronto per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Grazie.